High care di Don Lorenzo Milani, o meglio che lui riprende dalla gioventù americana, la migliore gioventù come lui l'ha definita, ha contrapposto a me ne frego, i due detti con cui abbiamo introdotto la riflessione di ieri, questa nostra riflessione sulla felicità. Educare alla felicità non significa educare al che me ne frego fascista, al che non me ne importa niente degli altri, io penso solo a me stesso. Educare alla felicità non può passare dall'educare all'individualismo, dall'educare all'egoismo, all'indifferenza che è qualcosa di più grave dello stesso egoismo e dello stesso individualismo, l'indifferenza che ahimè oggi è imperante, che troviamo anche in maniera strisciante nella stessa Chiesa ma anche fuori la Chiesa. educare alla felicità vuol dire educare all'altro, ma non soltanto a vedere l'altro, non soltanto a saper guardare l'altro. Quando scrive ai giudici Dolorenzo Milani, appunto indagato, processato per la sua lettera a favore degli obiettori di coscienza e quindi sospettato di incitamento alla disobbedienza civile, alla disobbedienza allo Stato, quando scrive e scrive questa, diciamo, contrapposizione, I care, cioè me ne importa, mi sta a cuore e me ne frego, lui vuole proprio dire che nel suo rispetto dell'obiezione di coscienza vi è il rispetto dell'altro, il rispetto del volto dell'altro, il rispetto della coscienza dell'altro. Educare alla felicità appunto vuol dire educare al volto dell'altro, educare alla coscienza dell'altro, al rispetto di questa coscienza, attraverso l'ascolto. E l'altro non è solo chi mi è attorno, ma è anche chi io non conosco. L'altro è l'uomo, di qualsiasi colore sia, a qualsiasi fede o ideologia politica appartenga, di qualsiasi pensiero professa e anche di qualsiasi, come dire, posto. Educare all'altro, educare all'uomo è un primo passo per essere felici, è un primo passo quello di sentire, di far sì che l'altro mi stia a cuore, cioè che mi entri nel cuore, questo è un primo passo verso la felicità. Certamente, come ho detto, non lo è e non lo può essere mai, il me ne frego, il non mi importa niente o io penso solo a me stesso. Si può anche pensare a se stessi in maniera sana, ma per educarsi a pensare agli altri. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!